Buongiorno a tutti, sono Stefano Turra dell'associazione ANIAD, associazione nazionale atleti diabetici. Sono qui per dare un messaggio, vengo da Brescia e comunque siamo un'associazione nazionale, un'associazione di atleti diabetici e vogliamo dare un messaggio. Chi ha questa patologia non deve fermarsi, ma con l'aiuto del proprio medico e con l'aiuto delle persone che ha accanto deve uscire dalla schiavitù della malattia, non deve fermarsi, deve muoverci e il messaggio di sport che posso dare lo do con la mia testimonianza. Corriamo, seguiteci www.aniad.bs.it, cercateci e correte con noi contro il diabete.